Forza Italia dopo la perdita del suo leader Berlusconi si aprono nuovi scenari, intanto si registra un effetto sui sondaggi? Sì, per noi ovviamente è un momento di lutto, è un periodo triste perché non immaginavamo la perdita di Berlusconi così repentinamente. L'attenzione mediatica sul suo nome e sulla sua creatura Forza Italia ci ha fatto crescere nei sondaggi. In quasi tutta Italia superiamo abbondantemente il 10% e si dice che qui in Abruzzo addirittura rasentiamo il 15%. Il prossimo 15 luglio, una data cruciale, sarà letto il nuovo presidente che rimarrà in carica fino al congresso nazionale. È stato convocato appunto un comitato nazionale che eleggerà, ed è già noto perché lo abbiamo già tutti quanti di fatto nominato in pectore, il presidente e il coordinatore del partito Antonio Tagliani, l'attuale ministro degli affari esteri e quindi sarà lui a traghettare il partito verso il congresso che presumibilmente sarà tenuto prima o dopo le elezioni europee. Chiara si respira tra i gruppi parlamentari del partito? Devo dire che la scomparsa del presidente Berlusconi sembra forse strano a qualcuno ma ci ha uniti ancora di più. C'era qualche scherzio, devo ammettere precedentemente la scomparsa del presidente, ma tutto quello si è finito, si è concluso. Ieri nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari di Camera, Senato e parlamentari europei è venuta fuori un'armonia invidiabile. C'è la sensazione che tutto debba mantenersi in una logica di armonia del partito così come avrebbe desiderato il presidente Berlusconi che non ha mai amato le correnti. Due giorni di tesseramento oggi e domani in onore di Berlusconi. Sì, questi due giorni che appunto annunciamo oggi di sabato 24 e domenica 25 giugno sono dedicati appunto alle adesioni al tesseramento del nostro partito, ma sarà come dire una sorta di testimonianza in suo ricordo di Forza Italia. È già tempo di pensare alle regionali? Sì, abbiamo un partito che si è molto rafforzato, con tanti ingressi, consiglieri regionali, consiglieri comunali, sindaci che sono vicini al nostro partito e che si sono avvicinati negli ultimi mesi e negli ultimi giorni. Quindi sono convinto che abbiamo tutte le carte regola per fare delle liste davvero molto forti, competitive e soprattutto di persone radicate sul territorio.